Andrea, arrivano altri tre punti, secondi, consecutivi. Questa è una vittoria davvero importante, arrivata anche al termine di un primo tempo nel quale la squadra ha fatto fatica, secondo tempo davvero di livello. Sì, tre punti importantissimi per il tipo di partita che è stata. È stata una partita sotto tono il primo tempo da parte nostra e siamo stati bravi, fortunati anche se vogliamo ammetterlo, a tenerla in gioco pareggiando. E dopo nel secondo tempo siamo stati bravi ad andare in vantaggio, a soffrire quando c'era bisogno di soffrire. Quindi nonostante magari dal punto di vista del gioco, dell'aggressività, abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla scorsa in atteggiamento, in volontà di arrivare fino al fondo. Siamo cresciuti e questo mi dà da ben sperare per il futuro. Abbiamo parlato spesso della test la settimana scorsa, di quanto la vittoria con Olbia potesse far bene dal punto di vista mentale. Anche da questo punto di vista qui vale tanto perché è arrivata contro una squadra forte che ha fatto un buon campionato sin qui. Assolutamente, Bubbio è da anni che sta facendo bene, hanno un'identità ben precisa. Infatti anche l'anno scorso ci abbiamo giocato contro i playoff e ci sono state due battaglie, sia all'andata che al ritorno. Uno step successivo rispetto a domenica scorsa sotto il punto di vista dell'atteggiamento. Abbiamo tanto da migliorare, tanto da aggiustare, però c'è tempo e l'importante era portare a casa tre punti fondamentali. Ti mancava il gol? Beh, tanto dai, da Pescara dell'anno scorso, mi mancava sì. Sono contento che sia arrivata in questa partita.